Finalmente i giochi a Venezia. Esatto, anche il camper finalmente è arrivato a casa. E' qui proprio che noi abbiamo questa grandissima ambizione di portare la fiamma olimpica. E quindi penso che questa forse è una delle tappe più significative di questo lungo tour che ci sta portando nelle piazze di tutto il nord-est e non solo. Con grande seguito, con entusiasmo, interesse da parte degli sportivi, degli appassionati, dei cittadini che prendono contatto con questo progetto molto ambizioso ma in cui giorno dopo giorno sale la nostra convinzione di poter raggiungere il risultato finale.